Nasce dalla condivisione nella logica di fraternità sottolineata nella terza enciclica di Papa Francesco firmata a Sisi, l'evento pubblico organizzato a Belluno per la fine del Ramadan. I segni dei tempi, spiega il Vescovo Marangoni citandola a Fratelli Tutti, mostrano chiaramente che la fraternità umana e la cura del creato formano l'unica via verso lo sviluppo integrale, la pace al di là di qualsiasi specificazione o esitazione. Il dialogo interreligioso a Belluno non è nuovo e la festa di domani nello spazio antistante Porta Dante per l'interruzione del digiuno dei fedeli di religione islamica sarà occasione di conoscenza per tutti, un controcanto alla narrazione tossica al di là di qualsiasi barriera. Questo insieme spiega proprio lo sfondo, l'orizzonte dentro il quale si colloca e vorremmo davvero che diventasse un segno, un richiamo che è questa la logica con cui andare avanti e con cui noi mettiamo insieme le nostre tradizioni e le nostre fedi. La diversità non è un ostacolo ma una ricchezza, nota l'imam Zaccaria, onorato di annunciare l'evento il cui scopo è quello di unirsi per la pace, per sensibilizzare alla conoscenza che è più produttiva dell'ignoranza troppo spesso voluta. Il problema è che non conoscere gli altri, quindi anche questo è un tipo di ignoranza crea paura, quindi più noi ci conosciamo, più conosciamo l'altro, più abbiamo fiducia in lui, più il legame di fratellanza diventa più grande. Domani sera al tramonto il via all'incontro festoso per l'interruzione del digiuno. In piazza saranno offerti piatti tipici della cucina marocchina e di quella italiana. La condivisione del pasto, un gesto semplice di fratellanza, conoscenza e amore, inizierà alle 19.51 precise. All'orario del tramonto del sole per le nostre tradizioni di fede è molto significativo il tramontare del sole, è il momento anche della raccolta, è il momento di mettere insieme, è il momento di condividere.